Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. C'è la cronaca in apertura, Lanciano, un detenuto tenta il suicidio in carcere, ma viene salvato e picchia gli agenti che gli hanno impedito questo gesto. Un detenuto recluso nella follata sezione Z del carcere di Lanciano ha picchiato due agenti di polizia penitenziaria rei di avergli impedito di suicidarsi. L'episodio, accaduto nella notte tra sabato e domenica, è stato reso noto dalla Will Penitenziaria Abruzzo. L'uomo, che già in passato aveva tentato il suicidio mentre era recluso, ha tentato di impiccarsi con la cinta dell'accappatoio. I due agenti sono intervenuti tempestivamente, spiega la Will Penitenziaria in una nota, subendo poi l'aggressione del detenuto con calci e pugni. Uno degli agenti è stato medicato e dovrà sottoporsi a dei test nei prossimi giorni per escludere eventuali contagi da malattie infettive. La Will Penitenziaria Abruzzo, dichiara nella nota il vice segretario Mauro Nardella, rimarca ancora una volta la difficile situazione che da anni attanaglia il carcere frentano di Villa Stanazzo e spera che l'amministrazione penitenziaria tenga in debito conto l'abnegazione dimostrata dai due agenti che con prontezza e professionalità hanno salvato una vita. Ancora cronaca, un operaio romeno di 45 anni è morto all'Aquila dopo essere precipitato dall'altezza di 5 metri dal tetto del capannone ex agriformula nel nucleo industriale di Bazzano mentre stava eseguendo lavori di riparazione per una perdita d'acqua. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire anche perché, secondo quanto si è appreso, l'operaio era sul tetto da solo. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in ospedale con un elicottero del 118 ma già in condizioni disperate. A Pescara, polemiche oggi in Consiglio Comunale sul bilancio, è iniziata la discussione in aula. È iniziata in Consiglio Comunale a Pescara la discussione sul bilancio 2015 approvato dalla Giunta Alessandrini in regime di predistesto finanziario. Come i sindacati, anche l'opposizione ha sollevato aspre polemiche per la manovra lacrime e sangue elaborata per evitare il tracollo totale. Per arrivare al pareggio, il bilancio di previsione 2015 ha tagliato fondi per circa 8 milioni di euro non risparmiando nemmeno il sociale, una situazione inaccettabile per il Movimento 5 Stelle. Enrica Sabatini. Una situazione drammatica che noi segnaliamo e denunciamo da tantissimo tempo. Lo abbiamo fatto anche a fine dell'anno 2014, quando abbiamo presentato più di 3 mila emendamenti per non far approvare il piano di riequilibrio, il predistesto, perché in realtà il Comune di Pescara è indistesto. Quali saranno le conseguenze? Che oggi i cittadini si trovano a dover pagare le tasse al massimo, quei servizi al minimo e per un'amministrazione che negli ultimi dieci anni, centro-est e centro-sinistra, si è dimostrata inadeguata, oggi si chiede alla città ulteriori sacrifici. In realtà purtroppo il dissesto è evidente, è sempre più evidente, perché non è possibile andare a tagliare i servizi importanti come le politiche sociali e noi ci apporremo in tutti i modi a questo evento. Ma il sindaco Marco Alessandrini ribadisce questa è l'unica strada percorribile e noi dobbiamo andare avanti per dare risposte certe alla città. Continuano a mancare all'appello 8 milioni di euro, somma notevole per un ente in predissesto per la quale abbiamo agito con una serie di iniziative, di tagli, di ulteriori razionalizzazioni della spesa, che certo non sono agevoli, se è vero come è vero che nel piano di riequilibrio economico-finanziario abbiamo previsto tagli di 11 milioni in tre anni. E' questa la questione più importante, io credo, che riguarda la vita di questo ente, riguarda la vita della comunità, perché la saldezza finanziaria è la base su cui chiaramente erigere la costruzione. E' un percorso impegnativo, ma noi continuiamo a non tirarci indietro con la consapevolezza della necessità di fiare chiarezza, di spiegare alla cittadinanza la situazione nuda e cruda quale essa è, una situazione complessa, comune senz'altro a molte amministrazioni comunali e però bisogna andare avanti perché la città ha bisogno di risposte. Il Ministro dell'Economia, Padoan, ha firmato il decreto che autorizza i pagamenti della Cassa Integrazione Inderoga e Mobilità Inderoga per tutto il 2014. All'Abruzzo in particolare sono state assegnate somme pari a 43.521.900 euro a copertura di tutto il 2014. A renderlo noto è la segreteria regionale della CGL. Ultima pagina parliamo di turismo religioso, terza tappa del Cammino dell'Apostolo Tommaso a Manoppello, Bucchiani e Covacri. Il 31 maggio i pellegrini partiranno da Lanciano per raggiungere Ortona dove sono custodite le spoglie del Santo. Si sono dati appuntamento davanti al Santuario del Volto Santo di Manoppello e i pellegrini che hanno preso parte alla terza tappa del Cammino dell'Apostolo Tommaso organizzato da Culto e Cultura in Abruzzo. Accolti dal Sindaco di Manoppello, Gennaro Matarazzo, i camminatori hanno dapprima visitato il centro storico del paese e il santuario dove è conservato il prezioso velo con impresso il volto di Cristo. Un progetto, quello del Cammino dell'Apostolo Tommaso le cui spoglie sono custodite a Ortona che vede insieme 14 comuni, 4 arcidiocesi e 4 province oltre al parter tecnico di Infiera. Già così come stiamo possiamo già dire che è un punto di partenza importante e che dietro le spalle ha già un percorso che si è sviluppato e che quindi oggi non rimane che mettere a frutto tutto quello che è stato fatto. E' questo lo scopo dei cammini e portare a conoscenza di tutti quali sono i percorsi e dare la possibilità a tutti. Questo popolo che noi non conosciamo molto ma che comunque esiste, è un popolo grande che è quello dei pellegrilaggi, dei cammini fra arte, natura, storia, enogastronomia e tutto quanto quello che c'è. Io voglio sperare che questo, come si pensava inizialmente possa rappresentare anche un risultato di progresso e fare economia per i nostri cittadini e le zone che attraversiamo. La tappa di Manopello ha toccato anche Bucchianico e Bacri. Prossima tappa lancia un ortono il 31 maggio. Il sindaco del capologo frentano, Mario Pupillo, ha partecipato alla tappa di Manopello per raccogliere il testimone. Esiste un popolo che percorre le vie della spiritualità e del culto e noi come Cammino di San Tommaso e diciamo progetto che unisce le varie città d'Abruzzo abbiamo intenzione proprio di disegnare e soprattutto adesso di percorrere proprio per tracciare questo cammino che deve unire Lanciano a Manopello, a Bucchianico, a Ortona che è ovviamente la realtà più importante in questo percorso e quindi io sono molto contento per questa prima esperienza che ovviamente lancerà questo progetto su cui i prossimi anni sicuramente andremo a raccogliere i risultati. 500 studenti di Pescara, Chieti, Frosinone e Roma si ritroveranno nel capoluogo adriatico all'Auditorium Flaiano nell'ambito del progetto Paisaggi Futuri. L'iniziativa è promossa da Italia Nostra. Circa 500 studenti di Pescara, Chieti, Frosinone e Roma si ritroveranno a Pescara, all'Auditorium Flaiano nell'ambito del progetto Paisaggi Futuri. L'iniziativa promossa da Italia Nostra e finanziata dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico italiano e alla riappropriazione di spazi degradati per un nuovo uso sociale facendo impegnare in prima persona direttamente i ragazzi che hanno elaborato delle idee e le hanno realizzate. Mimo Valente, Italia Nostra. Il progetto nasce da un contributo, un bando nazionale fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù a cui ha partecipato Italia Nostra nazionale aggiudicandosi il quarto posto e quindi ottenendo questo contributo in base al quale ha avviato il progetto in 16 scuole delle regioni Lazio e Abruzzo. Quindi si tratta di circa 500 studenti che sono stati coinvolti in questo tipo di attività che praticamente ha rappresentato un lavoro di un impegno notevole svoltosi nell'arco di tre anni scolastici iniziato quindi nel 2012 e si conclude quest'anno nel 2015. Praticamente questa conclusione avverrà a pescare noi siamo onorati di aver ottenuto questo tipo di riconoscimento e si terrà a pescare il giorno 13 maggio quindi tra due giorni presso l'auditorium Flaiano perché a Pescara potranno convergere circa questi 500 giovani che hanno partecipato a questo tipo di attività che riguardava uno studio del territorio e in che maniera questi ragazzi intendono trasformare positivamente le proprie situazioni a volte degradate pure a volte spesso degradate si va da palazzi non più utilizzati fino ad arenili in maniera tale che possano diventare luoghi di incontro di iniziativa e soprattutto di miglioramento dell'aspetto anche di tipo paesaggistico e urbano. Tra i progetti formulati l'unico che deve essere ancora realizzato è quello dell'itticittito acerbo di Pescara che ha avuto la concessione dal comune di 200 metri quadrati di spiaggia per impiantare il giardino mediterraneo. La pagina del calcio di Serie B la Pescara si lascia sfuggire l'occasione di ipotecare i play-off impattando in casa con il Perugia a Varese e Biancoazzurri dovranno solo vincere. Un Pescara al quale piace farsi del male mandando all'aria tre punti pressoché in tasca che avrebbero rappresentato la quasi certezza di disputare i play-off per di più in una posizione vantaggiosa. Il 2-2 interno col Perugia che ha vanificato il doppio vantaggio pescarese e la superiorità numerica fa emergere invece la fragilità casalinga degli uomini di Baroni una fragilità che ha segnato gran parte del campionato il mister. Purtroppo non riusciamo a capire questi momenti dove dobbiamo alzare ancora di più l'attenzione e la determinazione specialmente negli ultimi metri perché poi al di là che dispiace che comunque anche oggi c'è un episodio che ci penalizza in maniera importante perché il gol è in fuori gioco però detto questo bisogna difendere meglio sia sulla pallina attiva che su quell'azione perché siamo in netta superiorità numerica e non si può subire questi gol. Eppure i bianco-azzurri restano in piena corsa per l'obiettivo stagionale la condizione è quella di vincere a Varese con pagina ormai condannata la Lega Pro e poi non perdere in casa nello scontro diretto con Livorno nell'ultima di campionato sarà quella la partita chiave conquistare sei punti sarebbe però l'ideale a gongolare nella calda domenica dell'Adriatico Cornacchia l'ex Andrea Camplone col grifone che strappa un punto prezioso e soprattutto mantiene alle spalle proprio il Delfino. Ma io sono contento volevo andare anche meglio secondo me quindi peccato per le... Cioè recrimina il percorso? No non è che recrimina però il secondo tempo siamo usciti fuori benissimo con l'uomo in meno la squadra è cresciuta tantissimo non abbiamo sofferto più gli attacchi loro quindi abbiamo tenuto bene il campo con l'uomo in meno siamo rimasti anche spregiudicati perché con Fabinho Lanzafame è stato Lanzafame più avanti Fabinho l'è allargato esatto siamo passati con crescenze a tre quindi è inutile stare ancora lì dietro su 2-0 peccato perché... Quindi è stato premiato il tuo coraggio ma io credo che nel calcio c'è bisogno di coraggio poi si vincono si perdono le partite però c'è bisogno di coraggio Ancora serie B con la Virtus Lanciano che conquista la salvezza aritmetica è prenota il quarto anno di fila in cadetteria da adesso si comincia a pensare al futuro compiuta e senza troppi patemi l'obiettivo del club è stato l'obiettivo del club è stato comunque raggiunto a pieni voti resta però il rammarico per aver lasciato troppi punti per strada tra rimonte avversarie occasioni sciupate partite ben giocate che non hanno fruttato l'intera posta questione di maturità e di finalizzazione sulla partita di Carpi invece poco da raccontare squadre che non si sono fatte del male con punture di spillo nel primo tempo a pagamento totale nella ripresa la squadra adesso tira il fiato con D'Aversa che ha concesso i suoi tre giorni pieni di riposo i rossoneri si ritroveranno a pranzo mercoledì per poi disputare la seduta pomeridiana non ci sono squalificati e contro Spezia e Bologna si cercherà comunque di onorare la maglia ne va della dignità dei colori e soprattutto della regolarità del campionato la Virtus infatti diventa per buona parte arbitro della griglia playoff per progettare il futuro c'è ancora tempo per adesso attenzioni rivolte agli ultimi 180 minuti di gioco e per saperne di più vi rimando all'appuntamento di questa sera con la trasmissione ufficiale Virtus Lanciano in studio come avete sentito dal servizio di Enrico Gian Cristofaro non ci saranno tesserati perché appunto in vacanza e questa è l'ultima notizia del Tg Max vi ricordo che Tg Servizi e Programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it ci trovate anche al nostro canale YouTube e ai profili ufficiali dei social network Twitter, Facebook e Google Plus grazie per l'attenzione arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti